Rosanna Scopelliti, quest'anno è il ventesimo anniversario della morte di papà che va a coincidere con un meeting che adesso è da cinque anni che fa riferimento a Reggio Calabria e a Piazza Duomo, quindi una doppia valenza di questo meeting Legal Italia. Sì, come ogni anno ricorderemo papà qui in Piazza Duomo, Reggio Calabria, ci saranno ospiti di grande fama, di grande lustro che verranno a parlare con i giovani che ci raggiungeranno da tutte le parti dello stivale e vai anche a rendere omaggio alla figura di mio padre. Ecco, tanti ospiti illustri o comunque ospiti che conoscono molto bene la materia. Nicola Gratteri, lui ama definirsi anche docente di economia criminale, poi tra i tanti ospiti importanti chi altro? Vogliamo ricordare? Beh, rimanendo nel campo della magistratura ci sarà anche Salvatore Boemi, avremo Caselli, Ferdinando Imposimato, insomma nomi molto importanti che hanno dato veramente tanto e continuano a dare tantissimo al nostro paese. Poi avremo anche dei giornalisti, a cominciare da Felice Cavallaro, per poi continuare con Roberta Mani, Enrica Maio, Pino Maniaci di Teleiato, insomma i nomi sono infiniti e impiegheremmo un'ora solamente a elencarli tutti, ma avremo anche degli ospiti straordinari, persone che hanno voluto avvicinarsi a questa storia, che ci faranno da testimonial, uno su tutti Alex Britti che sarà con noi la sera del 6 agosto regalandoci qualche brano unplugged. E poi non dimentichiamoci, presenza importantissima è il nostro direttore che è Michele Cucuzza, che seguirà per noi, che sarà il nostro anchorman per tutte le serate, insomma, quindi nomi importanti, nomi fondamentali, nomi che si spendono quotidianamente nella lotta alla criminalità organizzata. Non dimentichiamo che il 9 alle 19 la messa sarà celebrata da Don Ciotti. Ecco, cosa rappresenta Antonino Scopelliti per Rosanna figlia, ma Rosanna cittadina soprattutto calabrese? Per Rosanna figlia, rappresenta il papà migliore del mondo, ma questo ovviamente penso sia uguale per ogni bambino, insomma, per ogni figlio. Come cittadina, se non fosse mio padre, penso che comunque mi sarei innamorata lo stesso della sua figura, un giudice dimenticato, un giudice che ha avuto per le mani i più grandi processi, insomma. Una persona che ha saputo dare un grande esempio a questo nostro paese con la sua rettitudine, con la sua dignità, con il suo immenso attaccamento al suo lavoro, insomma. Una persona, un magistrato purtroppo dimenticato, ecco, forse da cittadina italiana mi sentirei un po' in colpa, mi sentirei in imbarazzo per aver dimenticato questa storia.